Qual è la miglior base in assoluto tra Fanatec DD1 e Simcube 2 Pro? Senza ombra di dubbio è... C'eravamo lasciati con questa battuta che spero, seppur a denti stretti, vi abbia strappato una risata. L'ho fatto con l'intento di prendermi il tempo necessario per poter analizzare e testare il più possibile il Simcube 2 Pro. Questa base, che posso tranquillamente affermare, è la migliore in assoluto che io abbia mai testato. E' ovvio ragazzi, tenere in considerazione che non ho testato tutte le basi Direct Drive presenti sul mercato, ma tra tutte quelle che ho avuto la fortuna di testare, questa è la migliore in assoluto. Quindi ho già risposto alla vostra domanda che continuate a chiedermi a fare, eccetera. Qual è la miglior base DD1 o il Simcube 2 Pro? Ragazzi, secondo il mio modestissimo parere da utente finale, è il Simcube 2 Pro. Sono due mondi diametralmente opposti, ok, hanno una tecnologia leggermente diversa, un concept diverso, però quella che mi dà più soddisfazione, senza ombra di dubbio, lo ripeto, è il Simcube 2 Pro e queste sono le mie umili opinioni e come tali sono opinabili. Punto. Perché sono arrivato a questa conclusione? Molto semplicemente perché il Simcube 2 Pro considero sia una base che si installa e si dimentica, perché fa un lavoro tale che conferisce una familiarità, come ho già detto nel video precedente in cui presentavo il Simcube 2 Pro, perché c'è una facilità di configurazione per quanto riguarda i settaggi dei filtri, perché c'è anche una comunità che, per chi è meno esperto, mette a disposizione i propri profili e quindi è qualcosa che facilita un attimino l'approccio a quello che potrebbero essere le configurazioni di questa base e anche perché considero che restituisce un force feedback di altissimo livello. Non ho altro da aggiungere, come sapete non cado in tecnicismi perché non ho le competenze tali da poter dare spiegazione o fare dei confronti diretti. Parlo come utente finale e come tale mi permetto di dare la mia umile opinione. Quindi ragazzi è bene precisare che non sto denigrando le altre basi Direct Drive, è solo la mia opinione rispetto a chi mi dà più soddisfazione o chi mi ha dato più soddisfazione in questi anni di tutte le basi. Non sto dicendo agli altri non valgono nulla, che sia chiaro, ho solo detto e lo ripeto, Simcube 2 Pro per me, per me è la migliore in assoluto che mi sia mai passato per le mani. Tutto quello che ho affermato in questi anni e nei mesi passati delle altre basi Direct Drive lo penso e lo confermo, lo confermo. Però se mi chiedete secondo me qual è la migliore di tutte quelle che ho testato, Simcube 2 Pro. Quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale. Tanto è gratuito, attivate la campanellina e come al solito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto. Grazie per avermi seguito. Ciao!